Noi sappiamo dove vendiamo a votare. Ho fatto la punta. Sia in quattro. Ma tutti i miei direi, cioè di là sarebbe stato più facile. A questo punto se venivamo qualcuno del buono. Che è più forte a follo, quello che... No, ma chi è più forte nei confronti di noi, ragazzi, perché a tanto di lei stiamo a parlare. È una sorta di tramino, perché quando ti avvicini al gruppo senti dei bisbigli, poi i bisbigli si fermano e si bloccano appena tu comparis. Sono freddi e determinati e chi non fa parte del gruppo sa che prima o poi verrà nominato. Posso dirvi prima quello che farò, tanto so cosa fate voi. So che voi manderete tutti i miei re al televoto. Se non ve ne volete pensavo di dire Ubaldo, perché è l'unico che non è mai andato al televoto. Del nostro gruppo è l'unico che non si è mai andato nella nominazione tra quattro persone. Penso che Ubaldo sia molto forte. Tanto il primo gioco si arrivava, ragazzi. Il primo gioco si arrivava, ragazzi. Si pensava il 3, quindi. Sicuramente in questo gruppo fanno parte Valentina e Angela, Francesca, Gil, Andrea. Puntano l'obiettivo su qualcuno e poi... Il nominato del gruppo dei primitivi è Mirea. Guarda un po' chi tocca, tutti hanno votato Mirea. Prendete esempio da questo. Quando individuano un nemico, non fanno ostaggi. Colpiscono implacabili.